Io insegno, come già ricordato, matematiche e fisiche in un liceo scientifico e ritengo che questo contatto con la storia della fisica sicuramente arricchisca e di non poco la mia formazione e che questo sicuramente abbia in modo inevitabile una positiva ricaduta sul mio stile di insegnamento della fisica. In questo seminario verrà mostrata una parte specifica della Lagrangiana usata da Maxwell nella formulazione di una teoria dell'elettromagnetismo. Ci concentriamo in particolare sul metodo utilizzato. Maxwell prima dichiara di utilizzare il metodo di Lagrange per sistemi connessi e poi applica la Lagrangiana al suo elettromagnetismo. Nei due trattati A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field del 1846 e nei due volumi A Treatise on Electricity and Magnetism del 1873 Maxwell formalizzò, in linguaggio matematico, i risultati sperimentali su elettricità e magnetismo che erano stati descritti da Michael Faraday nel suo trattato Experimental Researchers in Electricity. In questo modo Maxwell pose le basi per la creazione di una teoria dell'elettricità fondata sulla descrizione fenologica ma anche su modelli matematici, però senza far uso del meccanico concetto di massa. Questo ne fece una sostanziale differenza con un paradigma meccanicistico del periodo, ma anche un momento di analogia tra teorie. Infatti Maxwell utilizzò, e lo vedremo più avanti, un'analogia con la meccanica per sistemi connessi che vengono descritti mediante equazioni di Lagrange. Ora, nella parte 4 del trattato del 1873 troviamo il capitolo On Induction of a Current on Itself. Maxwell ripercorre in questo capitolo alcuni fenomeni di autoinduzione elettromagnetica descritti da Faraday e crea un'analogia tra un filo percorso da corrente e un fluido che scorre in un condotto attraverso due concetti, che sono quello di energia e quello di momento. Qual è l'obiettivo di tale analogia? L'obiettivo è quello di costruire una nuova teoria dinamica dell'elettromagnetismo. Analizzando nel dettaglio i due fenomeni annota però che questo parallelismo non può sussistere quando si considerano fenomeni di induzione elettromagnetica. Qual è la ragione? Mentre nel moto del fluido in un condotto intervengono solo caratteristiche che sono interni al tubo stesso, nel caso di fili percorsi da corrente invece il comportamento cambia sia per variazioni di forma che per la presenza di altri corpi esterni al filo, anche quando la corrente per esempio rimane invariata. Quindi c'è in qualche modo un'influenza dell'ambiente sui fili percorsi da corrente. Quindi in qualche modo questa analogia cade. Ancora in questo capitolo Maxwell affronta la questione legata all'energia e fa ancora un interessante confronto tra fenomeni meccanici e fenomeni elettrici. Una forza ordinaria che agisce su un corpo e nella direzione del moto accresce il suo momento e quindi comunica il corpo energia cinetica o capacità di compiere lavoro. Allo stesso modo, a nota Maxwell, quella parte di forza elettromotrice che non viene usata per vincere la resistenza è impiegata per aumentare la corrente. E Maxwell a sostegno della sua affermazione descrive a questo punto effetti legati alle correnti che portano a produzione di energia di diverse forme, come per esempio produzione di calore, effetto joule, oppure lavoro meccanico con un conseguente spostamento di magneti. Come si conclude questo capitolo? Viene dichiarato l'obiettivo dei successivi capitoli. Qual è l'obiettivo dei successivi capitoli? In particolare del quinto e del sesto che sono i capitoli che abbiamo analizzato. In primo luogo analizzare le conseguenze delle ipotesi che i fenomeni legati a correnti elettriche siano quelli di un sistema in movimento, nel quale il moto sia comunicato da una parte all'altra del sistema attraverso delle forze e che quindi si possa in qualche modo usare il formalismo lagrangiano per sistemi connessi. Questo è il primo obiettivo. La seconda questione che viene posta è che la natura e le leggi che governano queste forze non vengono dichiarate e esplicitate perché i contributi che ne derivano andando a fare una formulazione delle equazioni del moto, dedotte applicando il metodo di Lagrange per sistemi connessi, fa in modo che questi contributi si eliminino. Il capitolo successivo, quindi il quinto, è dedicato invece ad una approfondita descrizione del formalismo lagrangiano per sistemi connessi. In particolare Maxwell parla in questo capitolo di un terzo modo di scrivere la lagrangiana in termini di velocità e di coordinate. Infatti in questo capitolo, differentemente da quello che accade nella meccanica newtoniana, Maxwell esprime le relazioni tra moto ed energia nel sistema ma andando a vederlo nel suo insieme e non in termini di leggi del moto che governano le azioni delle forze. Maxwell sottolinea infatti che è possibile scrivere l'energia cinetica in termini di appunto velocità e di coordinate. Andiamo un pochino più nel dettaglio. In un sistema descritto da diverse coordinate, per esempio da coordinate Q con I, questa espressione, cioè di T di Q con I, descrive la dipendenza dell'energia cinetica T dalla variabile Q con I. Questa derivata, nel trattato di Maxwell, nella sua descrizione della dinamica, è una derivata puramente concettuale ed è quella che oggi corrisponde alla derivata parziale dell'energia cinetica T rispetto alla coordinata Q con I. Al termine di questo capitolo, Maxwell dichiara infine di voler concentrare l'attenzione su due aspetti essenziali. In primo luogo, le connessioni del sistema sono tali che il tempo non compare esplicitamente nelle equazioni e in secondo luogo che il principio di conservazione dell'energia è applicabile a questo sistema. Vediamo ora come, nel capitolo successivo, cioè il sesto, Maxwell applica questo formalismo per costruire una teoria dinamica dell'elettromagnetismo. Ora, la presenza di una corrente in un circuito implica la possibilità di compiere lavoro e la capacità di compiere lavoro è energia. E quindi, nel caso di una corrente, la domanda ovvia diventa si tratta di energia cinetica o di energia potenziale? A questa inevitabile domanda, Maxwell risponde osservando in primo luogo che la corrente elettrica è un fenomeno cinetico, è legata a movimento, la cui causa è detta forza elettromotrice, ma, sottolinea Maxwell, non va che da non confondersi con la forza ordinaria che agendo su un corpo può provocare variazione dello stato di moto. Ora, seguendo ancora l'analogia con il flusso di acqua in un tubo, il lavoro prodotto dall'elettricità, cioè da una corrente, sottolinea Maxwell, è dato dal prodotto tra forza elettromotrice e quantità di elettricità che scorre attraverso la sezione di un conduttore sotto l'azione di questa forza elettromotrice e conclude, questo lavoro è inoltre misurato nella stessa unità di misura di quello prodotto da una forza ordinaria. In particolare, l'energia di questo sistema è totalmente energia cinetica. Diamo un'occhiata al lavoro e vediamo di che tipo è il lavoro fatto dalla forza elettromotrice che agisce su un circuito. Questo lavoro è possibile suddividerlo in tre parti. Una parte che è usata per vincere la resistenza del circuito e che è quella parte che poi può essere convertita in calore, per esempio effetto Joule. Una parte è invece spesa per produrre fenomeni elettromagnetici, per esempio fenomeni in cui i conduttori sono posti in movimento, ad esempio gli effetti osservati da Ampere, di forza magnetica tra fili percorsi da corrente. Infine, una parte è spesa per aumentare l'energia cinetica della corrente, ad esempio le correnti indotte osservate da Faraday. Adesso vediamo un po' più nel dettaglio come può essere scritta l'energia cinetica nella sua forma più generale possibile, tenendo presente che si tratta della somma di tre contributi, usando il formalismo lagrangiano che Maxwell ha in qualche modo rivisitato nel capitolo precedente, cioè nel quinto. A questo scopo supponiamo per ipotesi che questo sistema sia costituito da un certo numero di circuiti conduttori che etichettiamo con un pedice. Introduciamo due set di coordinate, un set di coordinate, x con 1, x con 2, x con n, che descrivono la forma e la posizione dei conduttori nel sistema, quindi sono delle coordinate puramente meccaniche. Le coordinate y con 1, y con n invece che descrivono il moto dell'elettricità o di tutto ciò il cui moto è governato da quello dell'elettricità. Ora l'energia cinetica è data dalla somma di tre parti in questo formalismo lagrangiano utilizzato da Maxwell. Vediamo nel dettaglio chi sono T con m, T con e e T con m e. La prima parte, cioè T con m, è la parte di energia cinetica che è dovuta al solo moto visibile, quindi meccanico del sistema. E quindi trattandosi di un contributo meccanico dipende unicamente dalle variabili x con e e la sua forma è di questo tipo. Quindi contiene anche, nella formazione più generale, termini misti, però delle sue variabili x con e. Il termine T con e invece rappresenta l'energia cinetica dovuta al solo moto dell'elettricità e questo contributo dipende soltanto dalle coordinate che descrivono l'elettricità e il suo moto, quindi dalle y con e. ed è formalmente analoga alla T con m. L'ultimo termine, T con m e invece, rappresenta l'energia cinetica che è in qualche modo dovuta ad un legame tra moto del sistema, quindi diciamo così moto meccanico, e moto dell'elettricità. In questo termine cinetico, quindi, compaiono sia le variabili y con e che le variabili x con e. x con e punto e y con e punto sono naturalmente le due velocità legate rispettivamente alle variabili x con e e alle variabili y con e. Ora, in una teoria generale, i coefficienti dei vari termini potrebbero dipendere sia dalle coordinate x che dalle coordinate y. Ad esempio, nel termine di energia cinetica, i termini del tipo x con e, x con e, sono quei coefficienti che in una teoria generale sono detti momenti di inerzia, mentre i termini del tipo x con x con j sono i prodotti di inerzia. A questo punto interessante è la dissertazione di Maxwell intorno ai coefficienti presenti nei termini t con e e t con me, dopo aver dichiaratamente detto che non si occupa del termine t con m perché in qualche modo rappresenta la meccanica. Bene, continuando con l'analogia con il moto del fluido in un tubo, per l'equazione di continuità e ammettendo che i circuiti siano lineari, l'intensità di corrente sarebbe rappresentata dalla sola variabile y con e. E questa variabile comparirebbe nell'energia cinetica moltiplicata per la coordinata x con e che si riferisce al tubo nel quale scorre il fluido. Infatti, la corrente non è influenzata dagli tubi circostanti, quindi, diciamo, il fluido che scorre all'interno di un tubo non viene influenzato da ciò che accade negli altri tubi. E questo implica che nei termini cinetici t con e, t con m e, dovrebbero comparire soltanto i quadrati delle y con i e non termini misti. Quindi, sono ammessi soltanto quei prodotti in cui le due variabili si riferiscono al tubo stesso. Ma nel caso delle correnti elettriche a nota Maxwell, questa restrizione non può sussistere perché correnti su circuiti diversi interagiscono tra loro. Da ciò segue la necessità di ammettere la presenza di termini della forma mista y con i y con j oppure y con i punto e y con j punto quindi gli analoghi termini per le velocità e, inoltre, segue e questo lo dichiara esplicitamente Maxwell l'esistenza di qualcosa in moto la cui velocità dipende da entrambe le velocità relative alle correnti. Questo qualcosa in movimento non è confinato all'interno dei conduttori che portano le correnti ma è probabilmente estesa sostiene lo stesso Maxwell nello spazio che circonda i conduttori. Ora diamo un'occhiata alla forma che assumono le equazioni del moto di Lagrange con queste considerazioni. Maxwell indica con questo simbolo x' la forza impressa corrispondente al set di coordinate x quelle che descrivono forma e posizione dei conduttori questa forza rappresenta la forza in senso ordinario cioè come azione con tendenza a cambiare posizione. Questa forza è legata all'energia cinetica attraverso le equazioni di Lagrange queste equazioni di Lagrange e in analogia con la ripartizione dell'energia anche questa forza è data dalla somma di tre contributi esattamente come l'energia cinetica. vediamo che cosa succede al termine x con e primo x con m e primo proprio perché Maxwell dichiara di non occuparsi del termine meccanico. Ora il termine cinetico t con e contiene soltanto la coordinata x punto questo implica che in questa equazione il primo termine è nullo e quindi l'unico termine che sopravvive è il secondo. Quindi cosa importante è che questo termine misura la forza meccanica che deve essere applicata a un conduttore per bilanciare la forza elettromagnetica ed è pari alla diminuzione dell'energia puramente elettrocinetica dovuta alla coordinata x quindi alla sola coordinata x vediamo adesso velocemente il terzo contributo che è quello relativo invece all'interazione tra moto meccanico e correnti e analizziamo separatamente i due contributi si può facilmente provare che il primo termine dipende dalla rapidità di variazione dell'intensità delle correnti e quindi indica una forza meccanica sul conduttore che quando le correnti sono costanti è nulla e che invece cambia segno quindi a positivo o negativo a seconda che le correnti aumentino oppure diminuiscano il secondo termine invece cioè questo termine oh scusatemi questo termine non dipende dalla variazione delle correnti ma dalla loro intensità e in questo caso c'è variazione di segno quando le correnti cambiano verso questo contributo invece è nullo quando i condittori sono fermi ora l'analisi di Maxwell continua con considerazioni sia teoriche che fenomenologiche per stabilire l'esistenza di un termine del tipo t con me ora concludo dicendo che Maxwell formulò in questo linguaggio matematico i risultati sperimentali ottenuti da Michael Faraday nella sua opera Experimental Research in Electricity attraverso l'utilizzo del metodo di Lagrange per sistemi connessi e mi approfitto per dire che questo lavoro appunto in via di sviluppo e ripeto appunto di essere molto lieta di avere la possibilità di aver approfondito di poter ancora approfondire di più questo aspetto della fisica che è così intimamente legato anche alla matematica qui un po' di bibliografia che è stata analizzata e letta per mettere a punto questo tipo di lavoro ringrazio per l'attenzione grazie grazie